Quattro, due, poi voi dovete iniziare alla seconda battuta sul primo movimento Questo è il corso di chitarra di ragazzi Uno, do, mi, re, do, re, mi, sol Non accelerate! Mi, re, do, re, mi, sol Fa, mi, re, sol E' mio dono Sono a giù Come sono questi allievi? Questi allievi devono cercare di studiare di più Lei è il professor? Io sono il professor di Mau, Giuseppe Pio di Mau Musica da insegno Dal Gargano Provincia di Foggia Bellissimo il Gargano Ragazzi e voi siete soddisfatti di questo corso? Vi piace? Sì Vi piace? Però si devono impegnare di più Però vi dovete impegnare E impegnare di più